Musica Buon pomeriggio a tutti ragazzi bentornati qui con me su Dragon Ball Z Budokai 3 HD Come vedete è già iniziata la sfida perché come vi ho detto ho iniziato a lavorare questo video lo sto facendo nel weekend quindi non ho ancora iniziato diciamo tecnicamente No proprio letteralmente ecco non ho iniziato però vabbè inizierò lunedì quindi quando lo vedete questo video avrò già iniziato Quindi ho deciso di tagliare anche qui qualche secondo per quanto possa essere vantaggioso ma comunque meglio che niente E ho detto vi faccio due sfide su questo non una come su Budo Ultimate perché qui le sfide sono un po' più veloci Però magari se riesco Oh me la fai la combo o no? No me la fai Eccola Boom 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 No gli avevo tolto una marea ragazzi Ehm vabbè questo è Goku 4 come vedete Contro Vegeta era la richiesta era al 55 ma non ce l'ho al 55 quindi l'ho preso al K.O. facilissimo L'ho preso al 59 tipo non lo so insomma quello più vicino E quindi dicevo per tagliare anche lì qualche secondo benché pochi ho preferito Ehm Meglio che niente preferisco portarvi due sfide e tagliare quei pochi secondi all'inizio piuttosto che portarvene in una sola La seconda sfida è Gogeta Super Saiyan 4 vs UB livello 88 Almeno così sta scritto Poi non so se ci sarà un UB Ah no era il 61 Non so se c'è un UB all'88 ma Ehm Va bene Togli tutto Mettiamo su un Gogeta Super Saiyan 4 Ehm Qua Perfetto Contro UB abbiamo detto l'88 Ehm Non l'ho iniziato a lavorare quindi Ehm Come ho già detto anche nel video di ieri che penso l'abbiate visto Dato che comunque Ehm 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 Appunto Ehm 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 Super Saiyan di quarto livello Quindi devo subito andare alla massima potenza Fargli la mossa Spaccarlo Devastarlo Saltargli in testa Mossa finale Uccisione più totale Vediamo Non so se la fa già adesso Hm Potrei stare calmo eh No non la fa Ok Quindi sono un babbo Ma devo anche perdere tempo Ma devo anche perdere tempo Fai un'energetica giusto per scaricare l'energia Veloce Tattati Daradà Daradig Daradig Daradà Questi dovrebbero Oh perfetto È quello che Ecco Quello che serviva però senza morire come un babbo Magari Tattatà Stai calmo eh Sei molto calmo Eccola lì Ci mancava pure questa Ci mancava pure che riuscisse a farmi sta roba Mannaggia a te Ub E chi ti ha messo al mondo Quanto mi togli poi Ah Prima gli ho al 700 Dai Aleko Mattak Fantastico Dai Ultimo Facciamo ancora quadrato Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego No Togli 100.000 Grazie 1200 1231 Fantastico Grazie Fammi andare alla massima potenza Fammi Oh me la fai o no Sta schifo di fusione Niente No Non volevo fare qui Dovevi farmi la fusione Non dovevi farmi questo Dovevi farmi la fusione Non voglio toglierti tanto Non me ne frega niente Devo fare la fusione io Vai avanzo allora Tondo Oh Ho fatto anch'io Ho segno Vabbè Mi li ho tolti Vabbè Adesso Non credo Faccia questo verso Ma come Come diavolo Scusa Quanti indicatori vuoi Ah Ah giusto E' vero Perché devo prima andare Super Saiyan Qua Me l'ero dimenticato Sapete Quindi così No Eh vabbè Ma scusa Ne avevo Sette Eh Allora sono proprio scemo Buttali dai Sprecali tutti E li fai di nuovo Ah sono proprio cretino Ragazzi C'è La mia stupidità Le sto prendendo Perché sono un mongolo Dai caricati Goku Vai Vai No 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 C'ero quasi Sbatti Oh Dai Oh Fatta Via No Non devi fare questo Oh Ce l'abbiamo fatta Fusione Vediamo Se la sbaglio Sclero Fu Ah non la fa neanche È vero È solo con la normale Vabbè Grande Grande E adesso lo pesto Adesso ti legno Purtroppo te lo ricordi 3.518 ragazzi Oddio Oddio Oh piano No No così Vedi Avevo fatto freccia indietro Avevo fatto Freccia Indietro Avevo fatto Freccia Freccia Indietro Che vuol dire Che lo devi Schivare Non è che sono un cretino L'ho disimparato a schivare Solo che così mi fa K.O. Ve lo dico No forse Non mi fa Eh a lei Tutte Ancora Stavolta Però mi toglie un po' meno Prima avevo dato il 1200 qualcosa Adesso siamo sul 1061 Dai Sì a lei Di nuovo Dai No 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 Oddio sono morto Fa niente Fa niente vabbè No dato che vabbè Questo è l'ultimo weekend che ho tempo Ve la rifaccio dai Giusto perché sono stupido Solo perché è l'ultimo weekend che ho tempo Se fosse già il weekend prossimo L'avremmo già Rinviata la prossima settimana Però dato che è proprio l'ultimo weekend che ho tempo Ve la faccio Sono buono Cioè gli ho tolto 3500 con la combo ragazzi Giustante Para Para No Piano Piano E a lei Dai Sì Che è Cioè ha fatto due mosse M'ha fatto Cioè mi ha fatto la combo di pugni E poi Mi ha fatto la combo di Non ci credo Fuori di testa Mi ha fatto la combo di pugni E poi E dopo la combo di Di cose Di della La cola Come cavolo si chiama L'urlo fatale Del sacro Malato Demente Di un verme Saporifero Di Pikachu Dai Via via Super Saiyan 4 Ovviamente Ti becca Perché quando la faccio io Mai No Dai Fusione fatta Fusione fatta E adesso Ti legno Adesso ti legno Ti faccio due combo E ti mando il creatore Perché mi hai già stancato Sei pronto Sei pronto Tranquillo Aspetta Guarda Bohm Bohm No E si Forte Allora Aspetta Dai Combo No No Mi ha detto Oh piano Dai Massimo Oh Che Sprecato Già finita Super Came 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 Bacca Eva Aspetta Sparami via Parata Come? Parato Come? Parato Come? Dai Basta Vai via Caricati qua Caricati 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 Veloce 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 2 3 4 5 6 7 Vai Sì sì Ti vai Super 7 4 Bravo Ma Bas Ma Perché Lui Sempre Perché Lui Ci riesce Tutte le Volte Anche Quando Mi Trasformo Lui Sempre Tutte le Volte Che Faccio Le Non riesco Neanche A fare Vediamo E vai Sprecata E vai Di nuovo No vabbè Ragazzi Stasettimana Non è Non è Destino Cioè Non è Quando non è Destino Non è Destino Perché Prima Sono andato Alla massima Potenza Una volta Gli ho tolto 5000 No 3500 Adesso Guarda In faccia Cioè Non le para Vabbè Fa niente Ragazzi Rimando Settimana prossima Perché Ub È diventato OP Non so Cosa C'ha E Rimandiamo Settimana prossima A questa sfida Mi dispiace Ma io non so Cosa dirvi Non so Cosa gli ha preso Ub Ma a quanto pare È devastante E nulla Va bene A settimana prossima Bella